Ciao amici Vagli Investor, le azioni NIO hanno performato davvero male in questo 2024 e chi addirittura ha avuto la sfortuna di comprarle nel 2021 ha dovuto assistere ad un crollo catastrofico. Però i dati dell'ultima trimestrale uscita ieri hanno acceso una speranza per questo titolo e ne parliamo in questo video. NIO ha fatto registrare consegne record in questo trimestre con un aumento delle consegne dell'11.6% rispetto a un anno fa ma nonostante questo il fatturato del settore auto è stato inferiore del 4%. Il fatturato del segmento auto è sceso nonostante l'aumento delle consegne perché ci dice il management è diminuito il prezzo meglio di vendita e questo ce la dice tutta sulla guerra dei prezzi in corso in Cina e il secondo motivo è il mix di vendite in pratica si sono venduti maggiormente i modelli più economici però il brand NIO continua a dominare il segmento premium delle auto a batteria in Cina cioè quelle con un prezzo superiore alle 300.000 RMB 40.000 euro circa con oltre il 40% della market share e il management si aspetta nei prossimi mesi un aumento della capacità produttiva considerevole con una guidance per il Q4 davvero ottima con un aumento delle consegne previsto tra il 43.9 e il 49.9% e con un aumento delle revenue comprese tra il 15% e il 19% quindi questo forte trend in aumento delle consegne che vedete dovrebbe secondo il management accelerare ulteriormente il vero problema di NIO però sono i margini di profitto che al momento sono ancora bassi e l'azienda non è profittevole però anche da questo punto di vista ci sono delle buone notizie e cioè che il margine di profitto per auto sta crescendo gradualmente e già nel Q4 2024 il management si aspetta che le auto a brand NIO raggiungano il margine obiettivo del 15% ed infatti il gross margin dell'azienda sembra stia prendendo finalmente la strada giusta con un trend di miglioramento abbastanza evidente il miglioramento del gross margin è da attribuire ai minori costi di produzione soprattutto per le materie prime e le batterie ed è stato questo lo stesso motivo che ha aiutato Tesla a ridurre il costo di produzione delle auto nelle ultime trimestrali ma anche l'aumento delle consegne e di conseguenza della produzione sta generando le economie di scala necessarie per migliorare i margini le spese operative però continuano a crescere per il lancio dei nuovi brand i nuovi modelli di auto e il restyling di quelli attuali e quindi a livello di profitti operativi rimane ancora in perdita questa azienda però il management ha dichiarato che nelle trimestre sono stati profittevoli a livello di cash flow operativo e di free cash flow in realtà appena dopo l'uscita dei dati della trimestrale il titolo era calato del 3-4% in pre-market ma poi si è ripreso e riporto alcune dichiarazioni del management che devono aver rassicurato il mercato il CEO in particolare ha detto che per l'anno 2025 puntiamo a raddoppiare il volume delle nostre consegne e anche controllando le nostre risorse finanziarie continueremo a registrare una crescita positiva del nostro flusso di cassa operativo e tale crescita sosterrà i nostri OPEX e CAPEX sulle attività è un'affermazione importante cioè raddoppiare le vendite nel prossimo anno e riuscire ad autofinanziarsi con il flusso di cassa operativo quindi non dover diluire eccessivamente gli azionisti che è una delle principali preoccupazioni che ci sono su questo titolo altra affermazione molto positiva per il management è stata che puntano ad essere profittevoli per il 2026 quindi profittevoli a livello di cash flow già adesso profittevoli contabilmente nel 2026 e nel frattempo raddoppiare le vendite mi sembra un bel quadro come faranno però a raddoppiare le vendite? uno, per il brand NIO c'è il tanto atteso lancio dell'ET9 il nuovo modello che sarà il primo modello a uscire con la nuova piattaforma tecnologica di ultima generazione l'ET9 è il top di gamma ma anche tutti gli altri modelli del brand NIO verranno equipaggiati nel 2025 con questa nuova piattaforma ma soprattutto quello che farà incrementare le vendite saranno i nuovi brand il lancio dei nuovi brand ONVO cioè il brand di fascia mainstream che è già stato lanciato in realtà nel Q3 di quest'anno ma che vedrà il grosso delle vendite nel 2025 perché uno, come sempre, ci vuole un po' di tempo per avere la piena capacità produttiva e due, perché nel 2025 verranno lanciati altri due nuovi modelli ONVO cioè due SUV e poi entro la prima metà del 2025 verrà lanciato il terzo brand nome del progetto Filefly che avrà come target il segmento delle auto compatte di lusso cioè auto che per dimensioni sono simili a delle utilitarie o poco più ma hanno tutte le tecnologie, le finiture e il comfort delle auto di categoria superiore e questi due nuovi brand hanno come mercato obiettivo molto di più l'estero rispetto al brand NIO che per l'estero risulta ancora piuttosto costoso e non sta ottenendo grandissimi risultati mentre questi due nuovi brand al netto di potenziali dazzi dovrebbero avere prezzi competitivi per il mercato internazionale consideriamo inoltre che a stimolare la crescita per la fine del 2024 e il 2025 c'è l'abbassamento dei tassi di interesse in corso e sappiamo bene quanto il mercato auto dipende da questo e gli stimoli già approvati dal governo cinese per il 2025 per il mercato auto elettriche chiaramente questa grande crescita delle vendite porterà con molta probabilità il gross margin ad una costante espansione quindi l'espansione del gross margin che abbiamo visto nel 2024 dovrebbe continuare anche nel 2025 anche se aspettiamoci che nei prossimi 2-3 trimestri non cresca a razzo il gross margin a causa del lancio dei nuovi modelli che nella fase iniziale hanno ancora costi di produzione poco ottimizzati ad esempio il gross margin di Onvo al momento è basso è a singola cifra dice il management ma si aspetta che nel prossimo anno raggiunga il 10% comunque considerando tutti i brand il gross margin delle auto dovrebbe essere del 15% già nell'anno prossimo molto più alto di quello del 2024 con il lancio dei due nuovi brand NIO diventa un'azienda multibrand e a mio avviso questa strategia potrebbe funzionare per godere delle economie di scala che si possono generare solo facendo volumi molto elevati quindi bisogna servire il mass market ma allo stesso tempo questa strategia consente di salvaguardare l'immagine premium del brand NIO qualche analista nella colla ha avanzato il dubbio se questa strategia non rischi di portare ad un cannibalismo delle vendite tra i vari brand ma la risposta del management è stata chiara la maggior parte dei clienti Onvo provengono da Tesla Model 3 quindi parliamo di una fascia di mercato completamente diversa da NIO Onvo punta a strappare i clienti alla Model 3 di Tesla e il management ha detto che hanno fatto anche un'analisi per vedere quale fosse il livello di cannibalismo tra i brand Onvo e NIO e ha detto che al momento è minimo parliamo di appena il 2% di sovrapposizione e ora che NIO ha questi brand più economici può lasciare che il brand NIO diventi sempre più premium perché appuntare al mass market agli altri due brand con diversi modelli che arriveranno a breve quindi come potete vedere se guardiamo i numeri di oggi di NIO non sono un granché è un'azienda che ha ancora margini bassi e perde ancora molto ma se guardiamo la trimestrale in prospettiva e non parlo del 2030 ma già del 2025 sembra che la strada intrapresa sia giusta che il peggio sia passato e quindi abbiamo un'azienda che dice che le vendite raddoppieranno nel 2025 quindi che prevede un'accelerazione importante delle vendite che prevede che il gross margin avrà un'espansione continua nei prossimi trimestri che finalmente produce free cash flow e può autofinanziarsi quindi ma nonostante queste buone prospettive i multipli come l'enterprise value su gross profit e l'enterprise value su revenue sono molto sotto la media degli ultimi tre anni come sempre chiedetevi però se vale davvero la pena investire in questo settore un settore dove c'è una competizione molto dura in particolare nel caso di NIO visto che quasi il totale delle vendite viene fatto in Cina c'è una competizione sanguinosa praticamente poi considerate che è un settore che ha margini molto bassi considerate che richiede costantemente investimenti pesanti per il lancio di nuovi modelli e l'apertura di stabilimenti e considerate anche tutti i rischi esterni cicli macroeconomici regolamentazioni guerre commerciali dazzi eccetera eccetera e ricordatevi anche che se vi piacciono questi argomenti dovete assolutamente entrare nel circolo dei value investor perché è nella nostra community su discord che facciamo queste analisi di aziende e questi ragionamenti e per entrare vi basta diventare sostenitori del canale tramite Patreon link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate di NIO dopo questa trimestrale un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide